ciao a tutti e benvenuti su solo cose 9 oggi voglio parlarvi di un problema che attanaglia tantissimi fotografi o comunque persone che vogliono avere dei ricordi e vogliono tenere dei ricordi senza il rischio di perderli o magari di darli in mano anche delle società terze se vi piace fare le foto vi succederà ben presto di avere migliaia e migliaia e migliaia di foto e avere difficoltà a categorizzarle e salvarle sui dispositivi più disparati innanzitutto sui computer però volendo esistono anche dei sistemi online come può essere amazon foto io lo utilizzo vedete è molto carino secondo me possono salvare le foto per singola giornata non ti dà chissà che informazioni però si può fare lo slideshow si possono fare una serie di operazioni e poi si può anche riscarcare la foto la cosa carina di questo sistema qui è che innanzitutto ogni giorno se avete fatto le foto lo stesso giorno dell'anno precedente vive le ripropone quindi vedete i ricordi degli anni passati come in questo caso qui ma soprattutto se avete il prime questo servizio gratuito e vi dà la possibilità di caricare le foto in alta risoluzione senza appunto perdita di dati o informazioni sulla fotografia ovviamente si parla solo delle jpeg si possono applaudare anche i video ma in questo caso si parla di 5 giga di video e poi bisogna pagare per avere dello spazio disco ma ci può stare per non fare un torto a nessuno esiste anche google foto che fa più o meno le stesse cose andate a leggervi insomma le informazioni che trovate sul sito ma oggi voglio fare qualcos'altro oggi voglio parlarvi di un sistema che possiamo installare in casa nostra per tenere le nostre foto e categorizzarle dargli dei tag fare delle cose veramente interessanti si chiama foto prisma a cosa serve foto prisma innanzitutto è un'alternativa a questi sistemi online di terza parti e io comunque consiglio perché consiglio di avere le foto e li ricordi importanti di averli in più posti magari un solo cloud può bastare ma anche tenerseli in casa in un proprio disco magari moltiplicato su più dischi può essere utile perché non si sa mai se vengono perse se vengono distrutte se c'è una guerra nucleare insomma non si sa mai è sempre carino avere un backup dei propri ricordi inoltre foto prisma è gratuito perché ho un'applicazione open source che si può sponsorizzare con patron vedete qui c'è il bcma patron se volete sponsorizzarla ma si può usare tranquillamente senza dover pagare nessuna penale e si possono caricare non solo le foto ma anche i video a me piace fare anche i video magari dei piccoli spezzoni però non voglio perderli e non voglio pagare la penale online poterli caricare online quindi questa è una soluzione diciamo che posso utilizzare nel mio caso vado a installarlo a fianco a tutti gli altri sistemi che abbiamo visto sulla docker quindi il mio home assistant e tutti gli altri plugin che utilizzato possa installare tranquillamente anche foto prisma su docker su raspberry pi si consiglia di avere ovviamente un raspberry pi 3 o 4 con almeno 4 giga di ram altrimenti potrebbe diventare instabile possibilmente con la 64 bit di cui abbiamo visto l'installazione qualche tempo fa e mi raccomando utilizzate la disc ssd un disc meccanico insomma un hard disk dove installare il sistema operativo non utilizzate la sd card perché qua viene installato insieme anche una database in questo caso maria db e la lettura e scrittura continua sulle sd card potrebbe compromettere la memoria e distruggerla quindi vi raccomando se possibile fate questa cosa vi faccio vedere solo un attimo qua sulla pagina di foto prisma avete comunque le varie tipologie di installazione per windows per linux per raspberry pi nel nostro caso questo si parla sempre di docker ma potete anche fare un'installazione stand alone qui viene proposto un docker yaml per avere tutte le configurazioni vedete qui c'è tanta roba da leggere poi in realtà ci sono poche cose da settare tra cui la password questa qui assolutamente da mettere quella di admin di foto prisma così come anche quella del database molto importanti anche i volumes e sarebbero dove andare a leggere i file che noi carichiamo vi vedete che abbiamo una una foto prisma original tutte le cartelle nuove che dovete andare a mappare le dovete mappare sotto original quindi se volete fare appunto qui c'è un esempio avete una vostra cartella sul vostro disco che si chiama example family la andate a mappare sul disco virtuale diciamo di docker con foto prisma originals family in questo modo foto prisma e potrà vederla e indicizzarla qua sulla pagina principale ci sono anche tutta una serie di comandi potete vedere per far funzionare il vostro foto prisma mi raccomando quando volete fare la scansione iniziale di tutte le foto tutti i video utilizzate questo comando qui docker compose x tech foto prisma foto prisma index meno f che quello che sto facendo io sulla mia macchina di raspberry pi eccola qui vedete che sta scorrendo piano piano ci metterà un'eternità perché ho già tantissime tantissime foto ed è per questo che ho messo in piedi questo sistema però devo dire che ci mette tra i due e i sette dieci secondi a foto ci vorrà comunque del tempo per farle tutte perché sono davvero davvero tante ma andiamo a vedere foto prisma in sé questo qui è il mio sistema di foto prisma vedete adesso ho fatto un aggiornamento ci sono tutte le foto dei miei bimbi di mia moglie e la cosa carina che ovviamente possiamo aprirle e vederle a tutto schermo ma ci sono anche una serie di informazioni che danno qualche cosa in più ad esempio quando è stata scattata giorno mese anno addirittura la fotocamera utilizzata l'apertura iso l'esposizione la lunghezza focale insomma l'apertura l'apertura focale e volendo potete aggiungere anche a descrizione soggetti eccetera eccetera qui ad esempio vengono messe delle keywords qua ha messo lorenzo perché la cartella si chiama lorenzo non è che l'ha riconosciuto e brown perché cerca di indovinare all'interno dell'immagine cosa c'è la cosa carina che poi si potrà anche fare una face recognition recognition praticamente il riconoscimento facciale basato sull'intelligenza artificiale e andrà a taggare tutte le persone all'interno delle foto vedete infatti qui c'è people dovrebbero poi essere taggate qui dentro ci sono le label per dare le label al file e qua ci sono le varie caratteristiche del file qui ci sono altre informazioni uid il nome dell'immagine la qualità dell'immagine a seconda dei suoi parametri la risoluzione 15 megapixel eccetera 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 vedete che qui abbiamo anche una sezione album io adesso non l'ho ancora fatto ma possiamo fare ad album e qua dentro aggiungere le foto categorizzarle i video le persone come vi ho detto prima a seconda della ricognizzazione facciale delle delle facce i favorites se abbiamo delle immagini preferite i moments calendar per mettere anche le immagini con diciamo il passaggio dei mesi i posti addirittura vengono taggati i posti dove vengono prese le immagini le varie labels come vi ho detto le varie folder poi ci sono tutte le impostazioni possiamo dare al foto prisma vedete qua possiamo visualizzarle grandi ma visualizzarle piccole possiamo fare un po quello che ci pare possiamo addirittura fare l'upload diretto delle nostre immagini ma intanto se questo video vi sta piacendo vi ricordo che potete mettere un like iscrivervi al canale attivare la campanella per non perdere altri contenuti di questo tipo aiutare il canale cresce grazie inoltre sul sito web www solo cose 9 punto it troverete un mini corso di fotografia gratuito a cui potete accedere semplicemente lasciando la mail nella newsletter ma tutte le informazioni trovate sempre qua sotto in descrizione ebbene anche per oggi vi ho detto tutto finisco di spaccioccare con questo nuovo sistema che mi piace veramente un sacco ovviamente come vi ho detto e vi ricordo tutte le immagini non sono solo qua su questo hard disk ma sono anche caricate online e io non voglio assolutamente perderle e non si sa mai che un disco si possa rompere per qualsiasi ragione e quindi ritengo anche online e poi probabilmente farò anche un secondo backup ma grazie ancora di essere stati con me ci vediamo nel prossimo entusiasmante video ciao